Sono qui con Walter che ha avuto anche lui un epilogo non troppo fortunato, Walter Ferrero, innanzitutto come stai? Sto bene Ti girano un po' le palle, diciamolo Sì, sì, sì Io non te le posso fermare perché sono maschietto, insomma Walter Sono venuto proprio per la classifica, purtroppo il torneo Spieghiamo un po' questo fatto della classifica, la classifica è comunque dei punti del miglior piazzamento durante l'etappe del Peoples Poker Tour che regalerà nel prossimo anno comunque la sponsorizzazione con la maglia di Peoples Sì, è una bella sponsorizzazione, purtroppo, peccato Speriamo di rifarci l'anno prossimo, se va bene Però comunque tu non puoi non essere soddisfatto delle due performance di quest'anno, Walter Non possiamo proprio dire niente Las Vegas, ITM, importantissimo, 259 su quasi 8000 Grande soddisfazione, e poi comunque il primo premio a Cranisca ancora, no? Il primo premio a Cranisca Senti, quanto è importante una continuità di risultato di bandierine di ITM per il mindset di un giocatore? È importantissimo, prima cosa devi fare andare avanti, mentalmente prima cosa, perché sei più carico E poi anche economicamente fa... Non fa male, insomma, diciamocelo, anche perché qui se stanno bene tutti, qui io devo dire che sono tutti generosi A volte vedo, prendiamoci un caffè, prendiamoci una cosa, io che ho le barraccine corte pagano sempre loro e a me fa piacere, Walter, voglio dire Ti apri un caffè? Ecco, va bene, è gratis, ecco, vedi questo è lo spirito, subito mi potevo fare gli affari miei, no? Allora Walter, io non posso farti gli auguri per un 2012 strepitoso Grazie Ciao a Walter Ferrer Ciao, ciao Grazie Walter